Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Jovix04 e oggi vi do il benvenuto su BeamNG Ragazzi la fisica di questo gioco, la distruzione dei veicoli in questo gioco è davvero fuori di testa Non ci posso nemmeno credere, anche io ragazzi Ma detto questo, ovviamente, andiamo in gioco, let's go Bene ragazzi, eccoci qua Prima di fare il free room dove possiamo letteralmente cazzeggiare Direi di fare la campagna, vediamo un po' cosa si può fare Posso della polisso, vai Acciufferemo questo ladro Ok ragazzi, ah seguita con le freccette, non stavo capendo all'inizio infatti perché non partiva Allora, a posto, acciuffiamo quel criminale che chissà dov'è Oddio però è difficilissimo guidare ragazzi, vabbè Che la fisica di sto gioco è realissima Però cavolo non avevo immaginato che era così difficile più o meno controllare Però dove la sto gestendo dai La sto gestendo, allora Fermo lì, criminale, per pochi ragazzi La meme di... oddio, oddio Addosso un albero Ok, va bene, io ci riprovo Il danno è stato fatalissimo Ovviamente poi in free room room potremo vedere veramente che danni possiamo fare Non lo so A proposito, se volete video di formula 1 scrivetelo nei commenti Aia Ha fatto male questo Aia 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 Eh sì Va bene ragazzi, adesso passiamo a qualcos'altro Direi di andare proprio sui free room Ok ragazzi, ci siamo Giusto Perché mi scordo sempre che si deve partire con le freccette, non lo so Abbiamo questa macchina qui Che secondo me si può cambiare in qualche modo Oddio, oddio Già perdo il controllo Allora, siamo su una mappa comunque dove si possono fare un po' di tamarrate Ecco, è una mappa È una mappa un po' per Insomma, per cazzo gioare quindi Vai, io direi Boh Proviamo a fare qualche cavolata, vai Proviamo tipo a Oddio, oddio, oddio Le gomme ragazzi Ecco qua Le gomme Perfetto Non è che posso Vediamo se si può cambiare Ecco ragazzi come si va Ecco, ecco Civetta a bolide Oddio che Vai Solo perché c'è la bandiera italiana Vi sento fiducioso Vai C'è Vettel? Oddio, perché mi è venuto in mente Vettel? No, 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 ragazzi Non va bene Allora Guarda qui Che professionista Mamma mia Meglio se non fa Perché io devo parlare sempre Porca miseria Allora Proviamo a fare un mega saltone, vai Giusto per vedere come si danneggia questa Mamma mia ragazzi Oh mio dio È andata a fuoco Perché ho beccato il motore No, no, no Allora Allora Abbiamo un problema Ma si possono spawnare due macchine contemporanee Che dico che Ho visto che alcuni li facevano in quei video Proviamo a fare Un frontale Vediamo il danno In un incidente frontale Vediamo un po' Allora Vi devo raddrizzare senza per carità Danneggiare la macchina Allora Ecco Vediamo un po' ragazzi Vediamo un po' se il danno è davvero fatale Ehm Allora Diciamo Diciamo di sì È abbastanza Abbastanza Allora Invece questa Vediamo com'è questa Uh 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 Questa corre ragazzi Questa corre Però Sgomma un casino Non lo so C'è il mega fossato Vai Oddio ragazzi La vedo brutta Aia Tra un po' diventa Un salame Sta macchina ragazzi Ehm Vai proviamo a fare quello Fa sto Sto coso qua Boh Anzi no no C'è una mega rampa Lì in fondo Vai Mi fiamondo tutta C'è Ho beccato un cavolo di cubo Ragazzi È la macchina Dietro S'è Sfracciullata In una maniera Abbiamo perso La ruota Ehm Ok Oddio Pfff Mamma mia ragazzi Abbiamo perso Un pezzo di paraurti Ma dopoostante Tutta la macchina Va Ehm Piano Andiamo Madonna ragazzi Non potete capire Che danni No ragazzi Sto gioco Mamma mia Ehm Vabbè Radiatore danneggiato Tra un po' Si smonta La marmita Cioè Guardate qua Ma si può fare Tipo Ma si ragazzi Guardate qua Elettronico Abbiamo un sacco Di cose Insomma Se noi ci possiamo Ah ecco Chase me Cos'è Cos'è Ma Ah la macchina Ci insegue Ho capito Ho capito Ok No mi prenderai Di sicuro Ehm Ok Forse mi hai preso Per via Dalla ruota Vabbè La mia ragazzi Ma mi seguo All'infinito Fino a quando Non gli dico stop Eh si ragazzi Ci vuole far fare Un frontale Va bene Vuoi questo frontale Ehm Io ti scrivo Driftando Cos'è È diventato Trocchio drift Ora Buona Tiki Ora Vini Tokyo Bella questa Che non so neanche Cantarla Oddio Mio Che backflip Non era neanche Un backflip Era un crashflip Aia Questo maranzino Che mi viene addosso Va bene Allora Proviamo un po' Ad andare In fondo In fondo Vediamo se Dove cavolo Vado a sbattere Se va tutto Un po' Eh va bene Niente ragazzi Questa macchina È perfettissima Oh ma c'è una rampa lì C'è un muro E' così Che da una macchina Diventa una scatoletta Di tuono Se voi La voglio lasciare Vediamo un po' Oh Stiamo andando dagli alieni Stiamo andando da Ronaldo Che Ronaldo Ma è meglio messo Allora Allora Irt Ok La lasciamo volare un po' Ragazzi Vai Rimettiamo la gravità Della terra Oh ragazzi Quanto siamo in alto Secondo me fa una brutta fine Sta macchina ragazzi 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 in alto come Holland Oh mamma mia Mamma mia ragazzi Si è accartocciata Ma che cosa sto vedendo No No Vabbè ragazzi È stato Un danno fatalissimo Va bene ragazzi Io dico che questo video Si può concludere qui Ovviamente ragazzi Noi ci vediamo Ad un prossimo video Non scordatevi Che potrei fare Anche una live Ve lo annuncerò Su Instagram Ovviamente Sempre il link Sotto in descrizione Del mio profilo Instagram E detto questo Bella ragazzi Grazie a tutti